Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Noris98, eccoci qua al centro sportivo di Arzo praticamente Siamo qua per fare i preparativi insieme al nostro Alessandro Chinelli Ciao a tutti Ciao Ale Eccoci qua, abbiamo visto Axia che prima è andato a salutare le mucche quindi vai a vedere le mucche Nella serie, ragazzi poi io sono qua sopra praticamente dove c'è questa strutturetta qui di marmo Che è il posto più sicuro per riprendere, qua infatti c'è la telecamera Adesso la vedete per terra però tra un po' mi vedrete lì sopra Perché farò riprendere ad Alessandro Chinelli quando sarò lì sopra perché è da far vedere sta cosa Intanto guardate il campo, bello grande, molto molto bello anche perché qua siamo vicini al fiume e si sente Sono arrivato con la posta numero 525 ragazzi da Mendrisio, bel viaggetto fai E oggi gioca Arzo contro Agno A mo' A giungare mo' Agno E quindi ragazzi siamo pronti perché anche qua mi vengono a parlare in dialetto e assumiamo perché Vabbè Ci rivediamo dopo, ciao Axel e Paderni Ciao Axel Ciao Loris Ciao A dopo Allora ragazzi mi trovo praticamente qua sopra nella postazione della telecamera principale Un posto veramente incredibile qua sopra Intanto lì sotto ci sono loro due Alessandro e Axel E qua c'è sempre il campo Allora ragazzi ci siamo quasi qua Le squadre si stanno preparando E riscaldando Siamo quasi pronti per trasmettere in diretta questa partita Mi raccomando recuperatela su Swiss World TV e scopritene di più Come sempre E io a questo punto vi lascio alla partita A dopo Allora eccoci qua all'intervallo della partita fra Arzo e Agno Dove il nostro grandissimo camera style Camera man fashion style È nella postazione a rilassarsi prima di riprendere per il secondo tempo Yes Forza Loris Vai vai Adesso Che stai ballando No scivoli È uno scivolamento unico Guarda il campo Non lo vedi? Guarda Sì si vede Guarda come l'unità Sì È veramente straumido È umido Ale Ma se no di Axel andare a vedere le mucche va Axel va a vedere le mucche Eccolo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo eh Ah ce l'abbiamo ragazzi Ok quindi siamo pronti Intanto In vantaggio il Agno per punteggio di 3 a 0 ragazzi Incredibile Io Sto tifando l'Agno anche se non si sente nella diretta Perché ovviamente non si sentirà però Sto incitando l'Agno a vincere veramente 3 a 0 ragazzi incredibile Ok ripartiremo quindi con il secondo e ultimo periodo Ci vedremo per la chiusura finale A tra poco Bene ragazzi Direi che da qua dal centro sportivo è veramente tutto Noi ci salutiamo E eccomi qua ragazzi Direi che da l'Orius 98 è veramente tutto Ci vediamo al prossimo video Commentate e lasciate tanti like Iscrivetevi al canale E condivisione è molto importante Dopo un saluto anche da Axel Paderni E Alessandro Chinelli A dopo Grazie Ale Nel frattempo direi anche un saluto da Alessandro Chinelli Ciao Ale Ciao E alla prossima Ciao Axel Alla prossima Ciao Ciao tutti Ciao Ciao